Sono le due di notte, volevo andare a dormire, non ce la posso fare, ho visto qualcosa che mi ha fatto rabbrividire, ve lo devo far vedere, guardate. Allora, quando sei lesbica, in Italia si comportano così i tuoi vicini di casa omofobi, ti tolgono lo specchietto, ti bucano quattro gomme della macchina, ci sono le altre due di là, e niente, ovviamente ho fatto denuncio. Ovviamente non si fa un cazzo, possiamo fare qualcosa. Ciao Camilla, ci sono un miliardo di cose che vorrei dire sul gesto terribile che queste persone hanno fatto nei tuoi confronti, ma il mondo è pieno di odio e penso non ci sia bisogno di andare avanti in questa direzione. Noi dobbiamo essere superiori, per questo ti dico, parliamo delle cose positive. Quello che è stato fatto nei tuoi confronti è ingiustificabile, ma io so che la maggior parte delle persone sono dalla tua, io sono dalla tua, e vorrei che tutte le persone che mi seguono in questo momento mi facciano questa cortesia. Mandate un messaggio a Camilla, fatele sapere quanto volete bene a lei, alla sua ragazza, quanto sono importanti e quanto siamo dalla sua parte e dalla loro parte, e abbiano il diritto di vivere la loro vita in libertà senza essere vittime di queste discriminazioni. Ma andiamo, se tutti abbiamo un minuto di tempo oggi, per favore, mandiamo tutti un messaggio a Camilla per farle capire che siamo dalla sua parte. E infine, non è per fare il fenomeno, non è per fare il figo, ti scriverò in privato, vorrei prendermi io cura di questa spesa riguardo allo specchietto che ti hanno rotto, riguardo alle ruote che ti hanno bucato. E' un piccolo gesto per farti capire che siamo dalla tua parte, siamo dalla tua parte, ti vogliamo bene, ti supportiamo, te la tua ragazza, continua a lottare e sperare in un futuro migliore. E lo dico con la voce un po' rotta perché ci sono mille motivi per cui in questo momento vorremmo andare tutti a fanculo e farci la guerra, e invece no, dobbiamo stare vicini, dobbiamo supportarci. Quindi adesso ti scriverò in privato, spero di aiutarti nel mio piccolo. Sii forte Camilla!